appenne termina 2 a 0 per i nero stellati un successo importantissimo per gli uomini di Alberto Bernardi che continuano a coltivare il sogno salvezza diretta si arrendono invece gli uomini di Adamo Pone che devono dire addio ai sogni dei playoff la gara parte subito in avanti la formazione di Bernardi il quarto minuto tiro cross di Papis sul fondo di un soffio al sesto minuto pendenza con un colpo di testa prova a far male ad Amico ma la sua sfera si perde sul fondo e il turno di Sosa al minuto sedicesimo la sua conclusione viene bloccata senza particolari problemi dal portiere di casa al trentunesimo la prima conclusione in porta per il penne contropiede orchestrato da Di Ruocco palla per coletta assist perfetto per cacciatore che da buona posizione svirgola al trentasettesimo Di Ruocco prova di impensierire Amo ma la sua conclusione viene fermata in due tempi dal portiere ospite prova la conclusione allora Owasi dei Nero Stellati minuto trentanove dai venti metri la sua conclusione si perde sopra la traversa e al quarantatresimo arriva l'occasione migliore della gara per il penne ottimo lo spunto di coletta che supera Bruno e mette a centro un ottimo pallone per la testa di Di Ruocco che da due passi manda incredibilmente sopra la traversa e la ripresa bisogna attendere sedici minuti per vedere il primo tiro in porta Silvaggi prova la conclusione potentissima respinta da Amo con un intervento strepitoso minuto ventitré ci prova Papis di testa palla in calcio d'angolo passano pochi secondi e Owasi serve Bruno che prova a impensierire d'amico che risponde al minuto ventinove si sblocca la gara colpo di testa di Papis su un piazzato di quaranta e la palla finisce in calcio d'angolo ma sugli sviluppi dello stesso corner e lo stesso Papis che di testa sblocca la gara 1 a 0 passano appena tre minuti e i nero stellati raddoppiano sugli sviluppi di un piazzato battuto da quaranta la palla giunge a Delgizzi la sua conclusione non sembra potentissima ma sorprende d'amico e palla in rete per il raddoppio la gara dopo tre minuti di recupero termina qui con la vittoria degli ospiti per 2 a 0 con Bernardi mister una vittoria un 2 a 0 importante che vi fa restare ancorati ancora al treno della salvezza diretta sì sì sapevamo che era era un'altra partita come come tutte quelle che andremo a affrontare da adesso in avanti decisiva per per la salvezza abbiamo secondo me fatto un'ottima gara siamo venuti qua con grande personalità abbiamo giocato a calcio abbiamo concesso loro un dieci minuti un quarto d'ora inizio se ripresa dove noi eravamo un pochettino un pochettino spenti poi fortunatamente siamo riusciti ad andare in vantaggio dopodiché la partita non non ha più avuto storia siamo riusciti poi a a raddoppiare niente continuiamo così perché solo solo lavorando e continuando a fornire queste prestazioni avremo qualche possibilità di di poter mantenere la categoria ma sì sono loro sono stati bravi sono di qua come ha detto anticipato prima il mister hanno fatto la loro partita sono stati molto bravi hanno forte motivazione cosa che è mancata a noi forse dall'inizio e siamo un po diciamo abbiamo siamo un po calati mentalmente ma dobbiamo subito riprenderci perché comunque per finire un campionato dignitoso e non impelagarci in situazioni che poi potrebbero essere complicate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti